Musica 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 Il 14 febbraio 44 Quindi? 70 anni Mese prossimo 74 Fischia Una borsa La metto a festeggiare Oltre 30 dove ci prendi A fattori Oltre 30 dove ci prendi Esatto Ti capivi? Capito Adesso 1,2,3,4,5 Ne manca una? No No Non ho messo tutto Ma che è tutto? Ma che è? Musica Musica Sofì Che fa Sofì? Mi dica Senti Voglio resumare questa macchina Bravo Lo messa via un anno fa che funzionava Allora Ma cosa vuoi? Sì Però Che funziona più? Cosa vuoi? La pina del cacao? A parte quello Bravo Schiacci lo scatto Quando si accendono i led Funziona 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 ma non sta scatta Ma perchè? Questo è solo un controllo batteria Suona 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 Ancora Sommi che sono sicuro Ma non è sicuro Sei più anziano di me Allora 34 34 34 Ah super 80 Complimenti Un meccanico Produzione di guerra Produzione di cosa fa? Su Ahahahah Le 40 lui c'era già eh Eh Buono Buono Hoändi Guarda Buono Buono Guarda 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 Che sono Guarda 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 Ecco Eh Che Bella Bravo Però però si sente adesso mannaggia che va scherzo è fotografato